Buongiorno cari maestri, mi chiamo Chonu, ho 21 anni, sono marittimo. Questo video è stato registrato il 20 aprile 2022. Paterò a Votokite Seigneur, da Fust, di Charles 1. Paterò a Votokite Seigneur, da Fust, di Charles 1. Paterò a Votokite Seigneur, doazote da Fust. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.